I carabinieri della stazione di Ispi che in due distinte operazioni hanno arrestato in flagranza di reato quattro persone, due trovate a rubare in un terreno agricolo privato ed altre due sorprese mentre tentavano di asportare i cavi di rame dai tombini dell'illuminazione pubblica sulla fascia costiera. Nella prima circostanza una chiamata al 112 ha segnalato la presenza di alcuni soggetti che si erano introdotti in una proprietà privata, da cui stavano rubando i prodotti coltivati. I militari hanno quindi sorpreso un 24enne incensurato e un 21enne, già noto per i reati specifici, che avevano riempito dei sacchi di iuta con 400 kg di limoni già caricati sulle auto. I due sono stati arrestati e successivamente, su disposizione del sostituto procuratore di turno al Tribunale di Ragusa, sono stati rimessi in libertà. La merce è stata immediatamente recuperata dai carabinieri e riconsegnata al legittimo proprietario. Nelle scorse settimane si sono verificate anche alcuni furti di rame sulla fascia costiera espicese. Per tanti militari dell'arma avevano predisposto dei servizi mirati e nel corso di uno di questi controlli, a Marina Marza hanno sorpreso due rumeni incensurati di 35 e 19 anni, mentre stavano tentando di rubare diversi metri di cavi di rame contenuti nei tombini dell'illuminazione pubblica. I due sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di diversi arnesi da scasso. Nel sopralluogo effettuato dai militari dell'arma è emerso che i due soggetti avevano già forzato alcuni pozzetti ed avevano già tranciato dei cavi elettrici pronti per portarseli via. Entrambi i rumeni sono stati sottoposti ai domiciliari.